Benvenuti nel mondo degli orologi Montblanc. Montblanc è un marchio di orologi di lusso fondata nel 1858 a Villere, Svizzera. Gli orologi Montblanc sono noti per il loro design elegante e sofisticato, unito alla precisione svizzera e alla qualità artigianale. La maggior parte degli orologi Montblanc sono dotati di movimenti svizzeri, come quelli della Società di Movimenti di Alta Gamma Minerva, acquisita da Montblanc nel 2006. Le collezioni di orologi Montblanc includono una vasta gamma di modelli, tra cui gli eleganti orologi Meisterstack, la collezione Star Legacy, rende omaggio all'iconica Star Collection di Minerva, pur mantenendo gli elementi chiave di segnatempo leggendari come l'orologio da tasca Gold Hunter, porta avanti l'evoluzione dell'alta orologeria classica con un design moderno e finiture migliorate, la collezione Time Walker, ispirata al mondo delle corse automobilistiche, e la collezione 1858 Trae. Ispirazione dal mondo delle esplorazioni ad alta quota. Ogni collezione è stata progettata con grande attenzione ai dettagli, per garantire che ogni orologio Montblanc sia un capolavoro di design e qualità artigianale. Inoltre, Montblanc ha collaborato con diverse personalità del mondo dello sport, dell'arte e della cultura per creare edizioni speciali di orologi. Queste edizioni speciali sono molto apprezzate dai collezionisti di tutto il mondo, grazie alla loro unicità e al loro valore storico. In definitiva, il marchio Montblanc rappresenta l'eleganza, la qualità artigianale e la precisione svizzera, ed è apprezzato dai collezionisti e dagli appassionati di orologi di tutto il mondo.